buongiorno a tutti ecco il secondo video tutorial su l'aggiornamento la conferma il nuovo inserimento riguardante le gradatorie di circo ed istituto del personale ata di terza fascia una volta individuata la provincia e la scuola che tratterà la domanda e aver fatto le dichiarazioni per coloro che sono in gradatori e provinciali permanenti coloro chiaramente che non sono in tali gradatori possono tranquillamente non fare queste non slasciare questi queste aree si fa avanti facendo avanti si entra in un riferimento di dati personali dopodiché si fa ancora avanti e si entra proprio alla scelta dell'operazione per quanto riguarda l'inserimento della domanda che si specificano innanzitutto i profili in un'unica domanda i profili a cui si vuole accedere se domanda di primo inserimento per esempio assistente amministrativo si fa inserimento per quanto riguarda l'assistente amministrativo se si ha un diploma che consente anche di inserirsi come assistente tecnico si fa anche l'inserimento come assistente tecnico così via con tutte le al tre gli altri profili quello di cuoco infermiere di collaboratore scolastico o di collaboratore scolastico tecnico addetto alle aziende agrarie oppure di guardarobiere inseriamo così tre i più classici quello di amministrativo di tecnico di collaboratore scolastico e con questi tre profili con una ripeto con una sola domanda si può fare avanti e si entra finalmente laddove si presenteranno per ogni singolo profilo i riferimenti alle ai titoli ma questo lo vedremo in un secondo in un altro video tutorial ringraziamo tutti continuate a seguirci nei nostri canali social in particolare nel canale di youtube